Abitano in Italia, esattamente a Reggio Emilia, oggi sono ospiti con noi i Tram da Fire ed eccoli qua tutti, una parte questa giusto? È una parte, allora intanto cominciamo a presentare i nomi Angela, Vitale, Cristina, Cristina, allora, quanti siete nel ruppo intanto? Mancano altri tre all'appello E beh qui non ci stavamo proprio probabilmente, però comunque li salutiamo perché sicuramente ci stanno guardando Allora oggi, ripeto, una giornata con loro, se riusciremo a tenerli legati per due ore staremo insieme quindi abbiamo questi ospiti, oggi potete telefonarci e naturalmente più che richiedere brani potete fare domande ai nostri amici, il numero di telefono come sempre è lo 0373 39 0038 potete fare anche domande attraverso gli sms al 4770 470 Allora il gruppo è nato dal 2005 che attiviamo a Reggio Emilia Sì Abbiamo la tromba di Sergio Plugaru, salutiamo Sergio che non è presente con noi Trombone Vitale Chiruta o Chiruzze Abbiamo voce Cristina Bejanaro Perfetto Poi un'altra voce suo marito Andrei Bejanaro Sì Abbiamo tastiere fisarmonica Sergio Furtune Sì E anche lui Manca l'appello Insomma dal 2005 voi state facendo musica Poi si entra si esce, è chiaro che i gruppi spesso e volentieri quando funzionano poi c'è chi ha degli impegni diversi e quindi spesso si possono anche cambiare però quello che conta è che la sostanza musicale rimane sempre quella C'è molto accordo, convivete bene fra di voi Certo sicuramente Che è quello che conta Poi si vede quando si guarda un video o si ascolta una canzone si vede che c'è molto legame fra di voi Quale difficoltà? Perché questa è una classica domanda che io faccio spesso agli ospiti che dall'anomania vengono in Italia creano qualcosa chi una ditta di lavoro, chi un gruppo ci sono state delle difficoltà avete trovato delle difficoltà in Italia degli ostacoli che avete dovuto superare con abbastanza difficoltà nel creare il vostro gruppo? Io direi non tanto quando ci vuole di creare una cosa si crea La volontà La volontà, esatto noi tra di noi prima di tutto siamo anche amici quindi quando si fa la proposta abbiamo notato che si accetta anche subito quindi la nostra difficoltà è più che altro trovare il tempo libero e anche lo spazio per andare a suonare in giro e che ognuno di noi ha un lavoro fisso e poi la musica è una passione è una passione è un hobby come diciamo è una passione e quindi fa trovare il tempo per adesso sì e noi speriamo che dalla passione passi anche a qualcosa di più concreto perché ormai è inutile girarci intorno è così nella nostra società di oggi è bello divertirsi però giustamente non ci si nutre con il divertimento ma anche con qualcosa di più costruttivo esatto anche perché noi adesso stiamo lavorando a un progetto di musica balcanica possiamo dire anche etnopop etnopop quindi per realizzare dei brani anche dei videoclip abbiamo bisogno certamente di di qualche cosa qualche cosa più sostanziosa nel portavoglio usiamo questo termine allora stavi dicendo no scusa perché ti stavo interrompendo vai vai no no ma è che per quello che dobbiamo ognuno di noi prima di tutto avere un lavoro fisso ok io volevo anche dire una cosa che spesso e volentieri ci sono delle associazioni in Italia associazioni che si occupano dei romeni dicono no di occuparsi dei romeni in Italia di cercare di aiutare i romeni in Italia io sono convinto che queste associazioni sono anche al corrente di gruppi romeni musicali romeni che dall'est che dalla Romania sono venuti in Italia vivono in Italia suonano, cantano come fate voi però chissà perché ogni volta che ci sono degli spettacoli dedicati alla Romania in Italia si vanno a pigliare gente che arriva dalla Romania nulla a togliere agli ospiti romeni però queste associazioni secondo voi non potrebbero ogni tanto pensare di inserire a pieno regime anche gruppi romeni come voi in Italia e esibirsi davanti a un pubblico romeno in Italia invece di andare a cercare in Romania secondo voi non è meglio? secondo noi sì solo che l'Italia siccome è un paese democratico ognuno come lo pensa così realizza sì certo è un'opportunità avere un gruppo già qui io adesso modestamente non sto parlando del gruppo Trandafir ma però insomma del gruppo X è ovvio che è meno costoso eccetera eccetera si sono meno spese sicuramente questo lo sappiamo tutti esatto però chissà che magari uno vuole provare un'esperienza nuova dopodiché fa i suoi conti allora mi raccontate un po' come nasce un vostro brano come nasce chi è che scrive chi è che ti arrangia chi è che fa come nasce? di questa cosa secondo me può parlare anche Vitale però lo posso dire anche io prego è che noi lavoriamo con il nostro compositore che si chiama Vecislav Daniluk si si trova a Chisinau in Moldova ah quindi arriva direttamente si abbiamo anche un paroliere che si chiama Andrei Cagiu lui studia a Parigi dopo siamo noi che qui in Italia l'ultimo brano l'abbiamo registrato proprio qui nello studio a Carpi a Carpi patria dei ladri di biciclette di un tempo e poi di Paolo Belli attualmente abita a Carpi esattamente nello studio dove ha registrato anche Paolo Belli conosco bene Carpi perché all'epoca quando facevo radio ho passato una giornata a Carpi mi hanno tirato matto in quel paese è Roveretto con precisione non è Carpi ma è Roveretto comunque è frazione di Carpi fortuna e sicuramente visto e sentito anche i vostri brani che spesso ci richiedono quindi avete questo paroliere che arriva direttamente dalla Moldova poi voi c'è ti arrangia c'è ti suona e giustamente poi create tutto questo posso solo aggiungere che nella squadra di cui Angela stava parlando mancherebbe all'appello un gruppo che fa le riprese video per i nostri videoclip che si parla di Alex HD ok che è quella che vi crea cioè che crea diciamo i videoclip bene molto bravi adesso anche se abbiamo appena cominciato però voi sapete quando siamo in una tv privata c'è il momento della pubblicità dico anche ai nostri amici da casa di prepararsi con le domande per da porre ai vostri a questi a questo gruppo e ricordo che potete anche parlare tranquillamente in romena come di solito quando ci sono io parlano tutti in italiano e lo dico oggi vi lascio parlare un po' dopo facciamo parlare lei facciamo parlare giustamente anche lei in lingua romena allora pubblicità 5 secondi e anche qualcosina di più poi rientriamo con i nostri ospiti a tra poco pubblicità grazie a tutti